c'è un metodo che rivoluzionerà il calcio italiano si chiama modulo a farfalla affascinante ok cacca che va a noi il tuo libro, quello è bravo tu da noi stimolo è più stimolo di questo ok cacca struz come sai? chico-crufo come ti chiami? chico significa porredatore di crisantina madonna benedetta dell'incurore dell'ipocca due uomini vanno davanti e fanno dei gin concentrici avanti e dietro così che sembra una farfalla in barso non dici o sine qua non oggi d'ergo sum e in hoc segno vince meglio tornare vecchio modulo perché non ti fai i cazzi tuoi farfalla farfalla e ti devo parlare un attimo cosa? stasera non viene per un drink da me alle otto e mezza fai attenzione a sto russo questo non vende solo matrioski qui sento puzza di mafia russa questi sono per te grazie papà ho una notizia bomba per voi borlotti e ramenco hanno organizzato una truppa gigantesca lei lo sapeva? sediti signor pubblico ministero la giusta punizione è la cella di rigore la parola alla difesa d'ufficio vi appello alla cremenza della corte viva l'italia viva la lega calcio viva la FIFA però vi siete fregati in 555 qui in alto non viva la fedora viva la fedora viva la fedora Grazie a tutti.